Un ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo nuovo appuntamento ed è un piacere avere qui accanto a me ancora Gloria. Ciao Gloria! Ciao a Rosi, ciao a tutti! Dove ci troviamo? Siamo alla Pogliani SRL, sempre in via alle Casiraghi 427, Sesto San Giovanni, quindi alle porte di Milano. Oggi ci sono grandi novità! E oggi ci sono delle belle novità che di cui una l'abbiamo appunto qui a fianco a noi. Abbiamo un nuovo marchio, Benelli, abbiamo giusto una piccola rappresentanza al momento di tutta la gamma, poi nel corso della stagione e anche nei prossimi mesi arriveranno poi tutti gli altri modelli. Abbiamo per esempio, adesso vi faccio vedere due o tre che sono quelli che abbiamo adesso, la Tornado 125, piccolina, ideale anche per ragazze, eventualmente come prima moto va benissimo. La Leoncino, nella versione base o nella versione trial, piccole differenze, è un 500 che dà le sue soddisfazioni anche nell'utilizzo. O per coloro magari che hanno idea di farsi qualche viaggetto senza voler spendere una follia, tra virgolette, abbiamo il TRK 502. Anche lei si può nel caso andare ad allestire con borse, bauletto, è già più o meno un veicolo da viaggio, tra virgolette. Certo, naturalmente gli allestimenti li potrete trovare anche qui perché sapete che trovate tutto. Esattamente. Lasciamo Benelli, andiamo a scoprire altre novità. L'altra volta, avete visto, era in gabbia, poverina, però l'abbiamo sballata perché era giusto giusto arrivato il momento della registrazione, l'Interceptor 650, quindi la bicilindrica della Royal Elphi. Vi ricordo che oltre chiaramente all'Interceptor ci sarà anche la Continental GT, stesso motore ma un attimino più accattivante, un po' più custom come veicolo. Il Royal Elphi propone sempre i Malayan come enduro e le classiche della versione bullet. Versione classica, versione enduro, versione leggermente più moderna. Quindi non si fa mancare nulla. Avete da spaziare tra le varie versioni. Esatto, esatto. Andiamo nel mondo Guzzi. V7, questo mese su tutta la gamma, quindi a partire dalla Stone, Milano, Special, RUG, quindi tutte le varie versioni, abbiamo la promozione con 750 euro di sconto dal prezzo di listino più immatricolazione. Dedicato invece a tutto il gruppo Guzzi, possiamo proporre anche finanziamenti a tan zero. In sostanza non pagate interessi ma ci sono semplicemente delle spese di apertura pratica iniziali. Quindi già quello potete dilazionare l'acquisto, eventualmente non avete il peso della cifra totale, l'andiamo a dilazionare senza interessi che non è male. Non è male direi, assolutamente. L'altra volta vi parlavo che appunto Antonio era durante la nostra registrazione a provare la V85 che è finalmente arrivata, finalmente in prova. Quindi venitela a provare perché è una moto strepitosa nel vero senso della parola. Per il mese di aprile anche qui abbiamo una promozione dove dal prezzo di listino si viene però omaggiati del bauletto in alluminio di 48 litri come capienza e la sua borsa interna per farvi capire più o meno un valore di un 700 euro di accessori. Quindi li ripeto, l'abbiamo in demo, teniamo a precisarlo, è una moto che se la provate ve ne innamorate. Quindi è la novità ma è veramente ottima nel vero senso della parola. E noi ti crediamo sulla parola perché sappiamo che tu le guidi le moto, le porti, per cui le conosci veramente. È fantastica, è fantastica. Perfetto. Parliamo di Aprilia. Dorso duro, anche lei moto molto bella, particolare, due colorazioni. Questa è la colorazione silver, sempre con la telaiatura rossa, col telaio rosso. Depotenziabile eventualmente per patente A2 non lo è già ma viene fatto il cambio centralina senza costi aggiuntivi che è una cosa molto importante dato giustamente tutta la lavorazione che comunque c'è dietro il depotenziamento. Abbiamo anche marchio Mesh dalle versioni custom cinquantini, 125, 2,5, 400, andare anche all'HPS della Mondial 300 e 125. Eventualmente abbiamo anche, sempre stando su, o versioni custom, anche motard che piacciono molto ai ragazzini, Fantic Motor, dal famoso caballero ritornato dopo anni di non produzione, finalmente è tornato, alle classiche motard nelle varie colorazioni. Molto bello anche il nero e giallo fluo, piace molto ai ragazzi. Novità, anche qui, oltre Benelli, abbiamo due nuovi marchi, è tornata Malaguti su versione moto, quindi in questo caso sono sempre 125, anche lei motard e un piccolo enduro 125, o Keyway, nuovo marchio, ripeto, tutte queste che vedete sono 125. Quindi ragazzini, venite qui che vi soddisfiamo in qualunque esigenza di moto, da quella fluo a quella più bassa, alla naked, alla custom, le abbiamo tutte, così almeno il papà e la mamma hanno un po' di scelta anche loro. Hanno un po' di scelta, assolutamente. Poi decidete voi, però almeno possono vederle anche la mamma e il papà. Siamo nel mondo colorato Vespa, perché è più colorato di così, c'è giallo, rosso, marrone, salmone. Salmone. Esatto, esatto. Su Vespa la colorazione è una delle cose principali che attira, a mio parere. Due piccole cose. Allora, la prima è Vespa elettrica. Ci sono gli ecoincentivi, quindi grandi sconti. L'unica pecca, dovete però darci in permuta, in rottamazione in questo caso, un veicolo vecchio, quindi Euro 0, Euro 1 o Euro 2, chiaramente anche non funzionante. Quindi può essere il vecchio ciao del nonno, va benissimo anche quello. L'importante è che ci siano tutti i documenti. Quindi Vespa elettrica è una delle novità. Abbiamo tutta la nuova versione delle Vespe GTS HPE, quindi con il nuovo motore e appunto le nuove colorazioni. Per esempio la gialla è una con... È bellissima. È veramente bella, è veramente bella. Poi la Vespa, gialla è nera e la Vespetta ci sta. Parlando invece delle cilindrate leggermente più piccole su Primavera 150 e 125, vi consiglio di chiamarci, di scriverci, poi lasciamo magari i vari contatti anche in sovrappressione, per avere le nuove promozioni. Riusciamo a farvi sui veicoli che abbiamo in pronta consegna delle promo e dei prezzi strepitosi. Quindi venite qui o chiamate o scriveteci che vi diamo una Vespa al prezzo della matita. No, scherzo. Però vi diamo sicuramente delle promozioni vantaggiosissime. Assolutamente. Mondo Piaggio, nello specifico Beverly 300 e 350. Anche qui per il mese di aprile ci sono due belle promozioni, dove abbiamo nel Beverly 300 700 euro di sconto e nel Beverly Sport Touring 350 860 euro di sconto. Quindi sono cifre, sconti, secondo me, dove inizia bene la stagione. Quindi approfittatene così iniziate bene la stagione anche voi ad andare in moto, andare a fare i giretti. Stessa promozione su Piaggio, abbiamo anche il Medley, sia 125 che 150, dove mi vanno invece a fare, in quel caso, la promo con parabrezze e bauletto inclusi nel prezzo. Quindi anche quello, un bel valore di accessori, non scontistica, ma accessori che hanno appunto il suo peso a livello di cifra, ok? Sempre mondo scooter, adesso vi faccio vedere marchio Sim e marchio Kimco. Nello specifico volevo farvi vedere il Symphony S 125, anche qui in promozione a 1900 euro, quindi meno di 2000 euro più in matricolazione, ve lo portate a casa. Stessa cosa invece come Kimco, c'è l'agility ai 1990, sempre più la messa in strada. Entrambe già con il bauletto, quindi per evitare il traffico cittadino, che ormai non se ne può più, traffico, blocchi, metropolitana, 2000 euro, vi portate a casa uno scooter e vi evitate ogni stress dal traffico. Dal traffico, mi sembra giusto. Avete visto quanti marchi, quante promozioni? Qui da Pogliani trovate veramente un mondo e non è neanche finita qui, perché avete anche altri marchi. No, avrei altro da dire, ma il tempo è quello che è. Però, come ho detto anche l'altra volta, venite qui, chiamate, scrivete, passate, che è la cosa essenziale, vi riusciamo a trovare il veicolo adatto per le vostre esigenze. Dallo scooter al 50, allo scooter un pochino più grosso in cilindrata, per le gite fuori porte, alla moto depotenziate, non depotenziate, nuove usate, tutto, tutto, tutto. Abbiamo tutto il reparto usato, vi ricordo di andare a vedere dal sito pogliani.com, ci sono tutti quelli che potete vedere qui, sono tutti inserzionati. Ve ne faccio vedere alcuni. Allora, abbiamo il Ninja Kawasaki, 6,50 BS del 2017, a 5.900 euro, più passaggio di proprietà. Sempre Kawasaki versus, 6,50 BS, sempre 2017, a 6.500 euro, più passaggio di proprietà. Passando a scooter, Medley 150 BS, 2016, a 2.600 euro, più passaggio. Triumph, altro marchio che abbiamo anche come nuovo, la Street Tripol 765 RS ABS, del 2018, a 10.200 euro, più passaggio di proprietà. Parlavo di Triumph, vi ricordo che abbiamo, avremo a breve, nel giro di qualche mese, il nuovo salone in allestimento, il nuovo salone sopra quello attuale. Vi ricordo abbiamo anche tutto il reparto abbigliamento, caschi, e a proposito di caschi, abbiamo la rottamazione dei caschi, quindi portate il vostro casco vecchio, vi facciamo uno sconto sull'acquisto del nuovo. Anche qui, fine serie di abbigliamento, quindi giubbini e quant'altro, con uno sconto del 50%, quindi la metà del prezzo lo comprerai pure io. Direi. Oltre abbigliamento, anche vi allestiamo i veicoli, quindi da parmani, marmitte, bauletti, quindi leve, scarichi, borse, eventualmente specchietti, la potete personalizzare le vostre moto come preferite. Venite qui, ci sono Alessio e Gigi, che sono i due colleghi, vi assicuro che sanno tutto di tutto, quindi venite qui, vi danno una mano a risolvere eventualmente problemi, piuttosto che volete accessoriare la moto. Bene, grazie Gloria anche per questa puntata, davvero ricchissima di promozioni, tante altre vi aspettano qui, e grazie a tutti voi. Ciao. Ciao a tutti. No, adesso c'ho le lacrime. No, 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 no Grazie a tutti.